Ciao a tutti, sono Roberto Fabri e dopo una piccola pausa, non tanto piccola, di due mesi, rieccomi qui con la piccola Giulia. Vi salutiamo e vi proponiamo un nuovo brano dopo questa pausa estiva. Continuiamo con questo pezzo che vi presenteremo oggi ad esercitarci sulla quarta e quinta corda, perciò sempre sui bassi. Il brano si intitola per i campi, è in quattro tempi e alterna le note da un tempo, sia alle semi-minime, ad alcune minime e alla semi-breve, perciò ritmicamente è molto semplice. Sei pronta? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Molto bene, brava! Questi due mesi hai suonato comunque la chitarra, no? Sì. Ok, diciamolo, comunque non ci siamo proprio fermati, abbiamo partecipato anche ad un masterclass dove ti sei subito davanti a un grande pubblico. Hai paura un pochettino, è vero? Sì, sì, ho un po' di paura, vabbè, prenda da me. Allora proviamo a farlo adesso con la base, va bene? Che è un pochettino più veloce. Bravissima, ti sei meritata un bel 10. Avete visto che ha usato il pollice per suonare la quinta corda, perciò tutte le volte che suonava la quinta corda utilizzava il pollice e indice medio alternato sulla quarta corda. Questa è una cosa molto importante, dovete stare attenti a farla alternare l'indice medio sulla quarta in questo pezzo e utilizzare il pollice per la quinta. Ti metto il 10. Cari amici che vi abbiamo presentato per i campi, vi aspettiamo per la prossima lezione. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al mio canale YouTube e cliccate la campanella. Ciao! Ciao! Ciao!